GF 15, Matteo Gentili e Alessia Prete non parteciperanno a Temptation Island La coppia formatasi al Grande Fratello ha comunicato, durante una diretta Instagram, che non intende prendere parte a Temptation Island. Alessia Prete e Matteo Gentili, conosciutisi e innamoratisi durante la partecipazione al Grande Fratello 15, in queste ultime ore hanno fatto chiarezza sulle indiscrezioni che li davano come probabili concorrenti di Temptation Island, annunciando che non faranno parte del cast della trasmissione di Canale 5. Matteo Gentili e Alessia Prete, amore a gonfivele. Matteo Gentili e Alessia Prete, ad una settimana circa dalla fine del Grande Fratello 15, appaiono più uniti che mai. I due giovani, classificatisi rispettivamente al terzo e al secondo post del reality show di Canale 5, di recente hanno rilasciato un'intervista a Pomeriggio 5. Il calciatore Via Reggino, dopo aver ammesso di essere entrato nel cast del GF 15 grazie alla sua storia d'amore con Paola Di Benedetto, ha voluto ringraziare l'ex fidanzata, perché proprio in seguito al suo approdo nella casa di Cinecittà ha potuto conoscere Alessia. Il giovane ha definito l'attuale partner una ragazza speciale, che l'ha conquistato fin dai primi momenti. Alessia Prete, dal canto suo, ha affermato di non temere il confronto con l'ex fiamma di Francesco Monte, poiché ad oggi può vantare di avere qualcosa in più di lei, l'amore di Matteo Gentili. Negli ultimi giorni avevano iniziato a circolare diversi rumors secondo cui la coppia avrebbe potuto far parte del cast di Temptation Island, il reality delle tentazioni che tra qualche settimana verrà trasmesso su Canale 5. I diretti interessati, in queste ore, hanno provveduto a smentire le indiscrezioni. Matteo e Alessia dicono no a Temptation Island. La relazione tra Matteo Gentili e Alessia Prete procede a gonfivele anche dopo la fine dell'esperienza al Grande Fratello 2018, dove si sono innamorati. . In queste ultime ore, i due giovani, ricorrendo ad una diretta su Instagram, hanno rivelato di non essere mai stati contattati per prendere parte a Temptation Island, aggiungendo che, anche se fossero stati inseriti tra i probabili concorrenti del programma, avrebbero rifiutato di parteciparvi. . I due ex biaffini, infatti, hanno rivelato di non avere alcuna intenzione di partecipare alla trasmissione, perché non intendono speculare sul loro grande amore. . Nel frattempo, lontani dai riflettori, Alessia e Matteo stanno trascorrendo questi primi scampoli di stagione estiva tra Viareggio e Volvera. . Il calciatore ha raggiunto la cittadina piemontese dove risiede la fidanzata per conoscere i genitori e la sorella marita della sua attuale compagna, come testimoniano alcune foto postate sui social network. .